Voi vi chiederete, ma che minchia ci faccia l'osservatore vulcanologico a 2800 e passametri con un bob? Torniamo qualche giorno indietro, quando durante il viaggio di ritorno verso casa ci domandavamo con mio fratello come trascorreremo le giornate sull'Etna, sprovvisti dei nostri mezzi di trasporto abituali. Ecco la massana idea. So if you love me, you know I'm here waiting for you I'm just a crosshair, I'm just a shot away from you And if you leave here, you will leave me broken and shattered and lied I'm just a crosshair, I'm just a shot that we can die Yeah Oh, 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 oh Alù, sei pronto? Lasciamo l'osservatorio vulcanologico, siamo in assetto di scena. Iniziamo questa pentuta, andiamo? Sì, andiamo! 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 Ovviamente, il piano del leggo in cappe! Sì, andiamo! Per questo non ho l'impicciolo di 4G! Bisogna camminare qui! Aspetta! Sì, andiamo! Sì, andiamo! Sì, andiamo adesso qui a ripartire! Ok, andiamo! Sì, andiamo! Ti va, Baloo! Sì 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 Ciao